Mi ha colpito molto la mostra fotografica su Luigi Bazzella non sapevo che ci fosse un attore e regista spero che si lavori per recuperare i suoi film io ricordo solo una volta da ragazzina ma ragazzina parlo di 10 anni, 11 anni trovai a casa di mia zia questo vecchio fotoromanzo che lei curava tantissimo perché era un attore del suo paese ciao quest'anno buro sono arrivato con il campus sono vintuando non posso dire sono bello o sono superiore però è una cosa che è andata innanti se non mi capisco a questa gente partecipare ci sono vinti critici e ci sono vinti disapprezzamenti è giusto che sia da qui non siamo tutti uguali per cui ti dottando a me cercare qualcosa di sbagliare io sono contento di questa manifestazione che ha fatto sempre parte di queste organizzazioni sia da come te non usassi quello artista ma un collaboratore artistico io sono pochi anni non è che mi sia dedicato a me da questa partecipazione che hanno impegnato le altre manifestazioni culturali del moralismo e cose per cui non mi sono potuto dedicare bene me però non mi ha detto che a noi è proprio bene punto eccezionale se in questo riguardo è una cosa che proprio forse è stata azione maggiore poi vedi in seguito vedi tutto il sacco che è piacevolissimo incontri sui culturali sui sociali e tutto ciò che è vero e spero che sia una manifestazione di continui con questo spirito di questo rio che va in parte della sabiglia nostra Se sperate è il paese dove saluto più gente a parte Cagliari a Sine non mi conoscono come sono conosciuto qui sono contento di essere per l'ennesima volta a Cuncambias e di Cuncambias voglio dire che ho apprezzato moltissimo il fatto che una serata sia stata dedicata per me a un certo Luigi Bazzella che io non conoscevo quindi come l'hanno fatto conoscere a me l'hanno fatto conoscere a tanti e soprattutto l'hanno ricordato a tutti quelli che sono disansperati e gli hanno reso un doveroso omaggio perché so che ha 83 anni adesso mi sembra che è il 25 e sono veramente contento di questo omaggio che considero doveroso verso un paesano Cuncambias è una bellissima manifestazione l'ho vista nascere mi piace perché è popolare e nello stesso tempo è anche colta quindi questo connubio mi sembra straordinario si mangia bene le panate di Ida sono straordinarie mi piacciono tanto soprattutto quella con le melanzane e poi si incontra bella gente ci si rilassa questo è il modo migliore di fare cucina mangiando divertendoci e stando assieme allora una manifestazione bella simpatica piacevole nella quale si può ascoltare si possono ascoltare belle cose belle persone si può mangiare bene i dolci Dio quanto sono buoni si può incontrare tantissimi amici tante persone si può stare insieme in allegria simpaticamente però anche pensando che è una cosa che in questo periodo la televisione ci sta disabituando a fare una bellissima manifestazione San Sperate è un paese veramente fuori dalla Sardegna o dentro la Sardegna un paese che richiama tutti insieme le tradizioni una festa una festa eccezionale dove si passa dalla cultura alla cultura del mangiare alla cultura dei murales e San Sperate la patria dei murales la patria di artisti come Pinucio Sciola Pablo Volta ma più in generale un paese che che rispecchia una Sardegna che deve vivere di cultura sono contenta che anche quest'anno ho partecipato a questa bellissima manifestazione di Cuncambias 2008 e spero anche per il futuro che sei migliori sempre mi trovo a San Sperate sono felice di essere stato invitato orgoglioso di aver trovato dei grandissimi amici dei grandissimi colleghi di tavola una tavolata eccezionale una festa che sicuramente in molti paesi invidiamo è un sistema come un altro per collaborare d'amicizia e fraternità e elaboriamo veramente un rapporto allargando quello che è il sentimento dell'amicizia della conoscenza per noi che veniamo da fuori per il paese e per San Sperate al completo ringrazio tutti quanti spero di essere invitati qualche altra volta e di godere di questa bellissima compagnia grazie a tutti anche quest'anno molto interessante con Cambias pieno di gente di spettacoli interessanti teatro musica e una grandissima mostra fotografica va bene così no? è stata una cosa seria no vabbè sicuramente è molto interessante come sempre perché ritengo che sia uno dei quei momenti dove veramente riusciamo ad incontrarci anche se non ci frequentiamo dunque per me ha un'importanza particolare forse i primi giorni quando sono uscito un po' meno gente però sempre però quei momenti sono stati sempre intensi poi come spettacoli quelli che ho visto interessanti non vorrei che cambiasse più di tanto mi piace così mi piace mangiare da mimo vedervi tutti perché non ho mai la possibilità in un'altra situazione di incontrarvi di stare con voi anche se solo per un momento perché ognuno ha la sua vita anche se abitiamo tutti assieme è stata una serata splendida con grande socializzazione una cosa bellissima che non si vedeva da tempo e speriamo di poter partecipare ancora in queste serate perché è un ritorno alla vita sociale e bella di un tempo che ci ricordiamo noi con cambia semplicemente fatica anche perché vanto un credito non indifferente con col sonno arretrato quindi non aspetto altro che un bel letto rilassato tranquillo e poi starmene per una settimana proprio con gli scurini chiusi e dormire voglio dormire voglio dormire basta basta voglio dormire poi poi tutto il resto dati elementi nozioni e quant'altro forse in una seconda intervista e poi non direi non direi basta foto grazie foto Quando fai i pocent'anni su una festa di Aicci fa questa grande festa e sarà con lei sui canni. Altri anni! Cuncambias, un festival di cultura popolare, è qualcosa di più, è il nostro spazio di libertà. Così come ha detto Fofi, se vogliamo sopravvivere in questo mondo che si sta dirigendo anche verso la catastrofe, sì, questo è il nostro spazio di libertà a cui scambiamo pareri, opinioni, cultura. Sì, e perché no, anche qualcosa da mangiare, seduti tutti alla stessa tavola. Ma è questo lo spirito di Cuncambias, è questo lo spirito di San Sperate, una comunità che sa ricevere e sa dare soprattutto. Domani concluderemo questo festival con il premio letterario ad Anselmo Spiga. Cuncambias è nato anche per onorare la figura di Anselmo Spiga. Concluderà poi la serata Liborio Vacca traendo le conclusioni di questo festival. Grazie. Grazie.